Per eludere i controlli avevano scelto come corrieri i giovani ventenni che dietro indicazione e compenso consegnavano la droga a domicilio. E' l'elemento più inquietante emerso nel corso dell'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Trani che questa mattina durante un blitz a cui hanno partecipato circa 100 militari del comando provinciale carabinieri di Bari con l'ausilio di unità cinofile e antidroga hanno arrestato 13 persone di cui una i domiciliari accusate a vario titolo di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish. Altre 7 persone sono invece indagate a piede libero. La base operativa era a Biceglie dove si spacciava principalmente nelle ore notturne vicino ai monumenti del centro storico o in un monolocale occupato abusivamente in piazza San Donato. Ma per non farsi scoprire il gruppo criminale che portava avanti un'attività di spaccio a gestione familiare utilizzava ragazze giovanissime ed incensurate che si prestavano a consegnare la droga distribuendola a quei tani che ne avevano fatto richiesta. L'attività di indagine è durata un anno, hanno spiegato gli inquirenti nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la procura della Repubblica a Trani con una serie di attività intermedie come un arresto in flagranza di reato e il sequestro di due chili tra cocaina, marijuana e hashish. Per non svelare il traffico illecito la banda chiamava la droga nei modi più strani quella verde, ci facciamo una birra, un caffè. Le consegne a domicilio venivano fatte con una Fiat Punto, nemmeno farlo apposta e il brano che i corrieri amavano ascoltare in auto era un pezzo neomelodico partenopeo dal titolo Siamo tutti intercettati. L'azione dei carabinieri di Biceglie che ha condotto l'indagine ha ben capito qual era il sistema di spaccio che avveniva nelle piazze del centro presso i luoghi di ritrovo ma a volte anche a domicilio attraverso la consegna dello studio facente e la cosa sorprendente erano queste ragazzine che facevano da corriere, da pusher nello spaccio della droga, sono ragazze ventenne incensurate che si prestavano a questa attività di spaccio entrando in un gioco molto più complesso e più pesante di quello che potessero loro pensare. Sono stati documentati numerosissimi contatti finalizzati alla consegna dello stupefacente e ben 20 acquirenti sono stati segnalati come assuntori. Non solo, questa mattina nel corso di una perquisizione effettuata durante il blitz è stato sequestrato anche materiale esplodente. Sono sempre di più i giovani che non avendo un'occupazione scelgono di spacciare e l'operazione odierna, ha spiegato il procuratore capo Carlo Maria Capristo nella dimostrazione di cui l'appello alle famiglie e ai genitori. Soprattutto questo è l'aspetto più inquietante, questa presenza di incensurati, di giovinetti appena ventenni che vengono assoldati dagli spacciatori, quelli che gestiscono il traffico e vengono mandati come dei corrieri a distribuire la sostanza nelle serate di discoteca, di pub di fine settimana. Il guadagno facile che deriva da questo tipo di operazioni o comunque di lavori non porta da nessuna parte, ma rischiano poi veramente di finire tutti quanti in galera e di distruggersi la vita. Per i genitori una maggiore attenzione.